ciao a tutti come sedoro un uomo con il linguaggio non verbale in questo video voglio insegnarti come sedoro un uomo con il linguaggio non verbale è molto importante fare questo perché potrai sedoro un uomo senza sbilanciarti in nessun modo quindi lui sarà attratto da te a livello non verbale tu potrai poi mettere tutti i vincoli logico e razionali che vorrai perché quello che veramente ti importa quello che veramente ti importa è quello di mandare degli stimoli e poi mettere vincoli questi vincoli faranno sì che lui si coinvolgerà ancora di più fondamentalmente quindi prima di trattare questo tema però iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo taramasco inoltre ovviamente attiva anche la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video e se vuoi qualcosa in più se vuoi ottenere delle risposte precise alle tue domande basta che ti abboni al canale e in apposite live abbonandoti potrai ricevere tutte le risposte che desideri e veniamo dunque al tema veniamo dunque al tema come far innamorare un uomo con il linguaggio non verbale allora come ho detto prima devi imparare a mandare in maniera attiva dei segnali dei segnali di comunicazione non verbale per non comunicare con la sua parte logica ma comunicare con la sua parte emotiva in modo tale che la sua parte emotiva si attratta si attratta da te da quello che dici da quello che fai e questa attrazione diciamo così farà in modo che lui inizierà a coinvolgersi inizierà a coinvolgersi emotivamente e quindi è probabile che in qualche modo ci proverà con te è probabile che in qualche modo manifesterà diciamo un interesse nei tuoi confronti a quel punto lì tu puoi mettere dei vincoli delle condizioni perché rientri nella situazione favorevole in cui un uomo ci prova con te ecco questo è importante è importante imparare a fare questo perché ti dà dei segnali molto 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 forti molto molto importanti allora quali sono i segnali non verbali che devi mandare in maniera attiva un uomo per farli intendere in modo subliminale cioè di sotto della soglia di coscienza ma sufficienti per far sì che lui ci provi allora il primo è lo sguardo lo sguardo devi guardarlo per un tempo un po più lungo del normale quando quando gli parli ma anche quando non gli parli cerca un contatto oculare e poi conta fino a 3 1 2 3 e poi distogli lo sguardo e poi magari torni nuovo a guardare ecco questo contatto oculare che dura tre secondi è sufficiente per far capire alla sfera emozionale la sfera emotiva di questa persona che che c'è un coinvolgimento è sufficiente un segnale di questo genere è ovvio che questo è uno dei segnali io te ne farò vedere molti se interagisci con una persona ad esempio un altro segnale analogico è quello di ridere ridacchiare di sorridere alle cose che dice quindi quando lui dice qualcosa tu puoi iniziare a sorridere puoi iniziare a mantenere un atteggiamento allegro se fa delle battute puoi anche ridere non in modo sguaiato ma sono tutti segnali che fanno capire fanno intendere che c'è un coinvolgimento utilizzando semplicemente il linguaggio non verbale non devi fare assolutamente nient'altro un altro segnale diciamo che puoi dare a livello non verbale è quello di buttare un po indietro la testa muovendo i capelli cioè oppure muovendo la testa alzando i capelli ecco tieni presente questo che il movimento dei capelli muovere i capelli spostarsi i capelli sono tutti segnali a livello non verbale che sono sono forti sono forti per quel motivo perché ti fanno diciamo questi segnali non verbali ti fanno come dire percepire come seduttiva in più tieni presente che ci può essere anche una stimolazione chimica che non è detto che sia così accertata però ci sono molte scuole di pensiero che appunto ricordano come diciamo la stimolazione di ferormoni che passa proprio attraverso il movimento dei capelli alzare i capelli c'è una produzione di ferormoni può generare quella che viene chiamata attrazione chimica questo è un altro segnale molto forte che può essere utilizzato in in questi casi per conquistare per sedurre altri segnali che devi mandare sempre tra virgolette in scrittura cioè devi mandare deliberatamente volontariamente quando vuoi interagire e sedurre un uomo a livello non verbale sono diciamo così dei segnali che vengono attorno alle labbra cioè puoi deliberatamente ogni tanto mordichiarti le labbra umettarti le labbra toccarti le labbra portarti la mano alle labbra mentre parli ecco questi segnali diciamo così sono segnali molto forti molto molto forti che c'è un coinvolgimento che c'è un coinvolgimento molto forte a livello a livello non verbale c'è un coinvolgimento molto forte a livello emozionale e questo ti farà intendere diciamo farà intendere che riuscirai ad ottenere dei risultati diciamo dei risultati emotivi molto potenti se dall'altra parte ottieni un altro segnale di gradimento cioè se mentre tu effetti deliberatamente un mordicchiamento delle labbra in questo modo gli ottieni dall'altra parte ad esempio un omologo ricalco un omologo mordicchiamento delle labbra beh questo è un segnale molto forte che c'è lei è ganciato proprio stessa cosa se vieni in avanti si inclina leggermente in avanti cioè praticamente inizia un dialogo tra le varie parti emotive e non tra le parti logiche quindi vai a comunicare proprio a livello subliminale al di sotto della soglia di coscienza queste comunicazioni subliminali portano appunto seduzione portano coinvolgimento altre altri segnali che tu puoi fare sono quelli legati diciamo alla programmazione neurolinguistica la pnl e riguardano il mirroring cioè se tu effetti una specie di rispecchiamento diciamo così della gestualità dell'altra persona soprattutto questo a livello posturale no andare però puoi ricalcare anche a livello fisiologico la respirazione ad esempio un ricalco molto interessante è quello di gesticolare al ritmo della respirazione del respiro dell'altra persona questo gesticolare diciamo così al ritmo del respiro dell'altra persona è molto importante perché ti permette permette molto rapidamente di utilizzare dei diciamo dei recettori emotivi dell'altra persona per cui l'altra persona quella che è soggetta a questo mirroring inizierà a vederti come una sorta di alter ego una sorta di come dire persona molto simile e quindi si sedurrà soprattutto la sfera cognitiva anche qua è importante cercare di capire come ottenere un feedback dall'altra parte e quello che puoi fare dopo che hai fatto un buon ricalco iniziare a variare un po il comportamento cioè mettere in atto dei comportamenti dissonanti dei comportamenti difformi da quelli che a lui se tu hai fatto un buon ricalco prima potrai capire che questa persona si è agganciata se lui inizierà questa volta a ricalcare te se lui inizierà questa volta a ricalcare un po' quella che è la tua postura significa che c'è stato un aggancio un aggancio a livello emotivo un aggancio molto forte ecco queste più o meno sono le strategie che puoi utilizzare a livello non verbale per conquistare un uomo quindi senza neanche parlare poi ovviamente la parola può venire successivamente ma l'importante che il coinvolgimento avvenga proprio a livello a livello non verbale bene lascia nei tuoi commenti qua sotto quello che ne pensi qual è la tua opinione metti un like al video se ti è piaciuto iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche di nuovi video seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco e se vuoi qualcosa in più puoi abbonarti al canale abbonando al canale riceverai delle risposte precise alle tue domande ciao a tutti